Siamo fuori finalmente, cara mia Siamo di qua? Venghi, venghi Sono di qua Prendiamo meno acqua insomma, più o meno Oh, cacca Marisa Grazie, grazie Scansione, che c'è la schiena nella? Ora Possiamo pagarti bene That's it Sono stanco di questa merda Tempo di arrivo? Un paio di minuti Minchia Cazzo Porca Marisa Ah, Dio Cristo Pensavo avremmo solo Flegati o roba così E invece Guarda Che è? Positiva Ma che cazzo Dici che Marlin ci ha fregati Che cazzo stiamo ascoltando una ragazzina infetta Non sono infetta No? Quindi questa mente Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta Guardate qui Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata È di tre settimane fa No, si trasformano tutti in due giorni Basta cazzar Invece Tre settimane Perché avrebbe dovuto fregarvi? Cazzo Non si nasconde E cazzo No, invece ha ragione Cazzo Cazzo Ho sentito gli spari Puttana Eva Via! Via! Cazzo Andiamo vai Andiamo vai Calma Ho due soldati morti Dietro di me Resto Andiamo, andiamo Merda Magari non mi compie Intenta penetrare Al mio segnale Corriamo Ok Al segnale Corri Capito Ora Corri Via! Cazzo Dai, vieni, vieni Vai lontana dalla luce Cazzo Sì ma Sì ma Ehi, dove cazzo sei? Ehi, dove cazzo sei? Sei pronta? Ehi, ehi Sì Cazzo Madonna mia Che ansia Raga, che ansia Siamo braccati Soldati, là Li vedo, li vedo Devo essere guardati, controllati i canali Rimanete indietro Non vedo niente Aspetta, aspetta Rimanete Giù Forza Forza Segui Gio Vieni qua Vieni qua Vieni qua, proviamo a pesare di qua Cazzo! Lo vedo Fanculo Di qua Fanculo Sì 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 Mi sento là ampun mezzi di merda porco dio cazzo fanculo ok, vabbè, non ho mai partire da qua perché sennò devo farmi tutto il cosa, diciamo, per il bellino proprio, eh mi sento da davanti cazzo ma muori, ma muori, cazzo via vai 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 non male cosa hai fatto? non vanno a scappare senza... ce la fai? non è che ti cagli addosso? facci su loro oh merda, un'altra patola porca puttana giù ne sono davvero tante qua fuori e come facciamo a superarli? se sono ancora corti di me facciamo il giro com'è? sono troppi, adesso oh merda oh merda ok vedo altre luci Congratulations mi sento 500 mak muori cazzo, muori! cazzo, porco zio! bastardo! eh, tosto, eh? vieni, vieni! vieni, vieni, vieni! vieni, 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 vieni ok merda quel diavolo era? ok merda visuale sul bersaglio porco zio vai, lo vedo! cazzo, venite! malco zio vieni, vieni porca troia e che cazzo? si, ma... dai, cristo dio! mi chai rarga, tram mi chai rarga, tram eh? cazzo ci siamo a passo vediamo per lì merda ma l'ha visto, ma l'ha visto penso che mi prende l'altro mattone non so se c'è uno spacco in fronte spero, aspetta grazie tenere dai anche venite mi ha fatta già, mi ha fatta di qui, forza basta avanzare in uno, allora basta uno mi ha fatto fuori uno dai, buono, buono spero di no andremo prima di scoprirlo ci è mancato poco, Tess andiamo di qua, vai mi siete dietro, cazzo? oh, raga avete i fatti vostri ok ah, infatti cioè, piove fuori, ma non piove dentro non è che non piove più grave ed allarmante, direi situazione merda, merda guarda i soldati oh, cazzo non credo che ci vedano vai dai, 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 dai sono andati via sono andati via, raga corri, 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 corri andiamo, andiamo ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta, raga qualcosa c'è? ce l'abbiamo fatta eh, sì no, ci sono ancora approfittane per riprendere il fiato ok Joel, vedi se c'è niente di utile eh, l'ho già fatto qui allora, accendiamo un po' la luce direi che basta sì, ma quindi ah, di qua ok, fantastico vai dai, vieni qua non si può dai fammi passare su disgrazia merda merda urca merda dai, dai dai dai, dai, dai ah, minchia abbiamo seminato ben sono andati uff mamma mia mamma mia raga qual era il piano? se anche riuscissimo a consegnarti alle luci che accadrebbe? infatti Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena ah i loro dottori stanno studiando una cura ah, fico mai proprio mai mai quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino oh, crista nicchia è quello che ha detto ma certo, non ho alcun dubbio ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto neanch'io tess che cazzo ci facciamo qui? e se fosse vero? eeeh non ci credo se fosse così, joel siamo arrivati fin qui andiamo fino in fondo ok devo ricordarti che cosa c'è là fuori? ho capito da questa parte da questa parte passando dal centro arriveremo al palazzo del governo per l'alba ok, ok vediamo andiamo